Tra i tanti problemi che attanagliano il Foggia, precipitato in classifiche e nel gradimento dei tifosi, ce n'è uno che è già costato in queste prime sette giornate di campionato punti preziosi, è quello relativo ai portieri e ai tanti errori che hanno contribuito a zavorrare morale e classifica. Tra i pali si è creata un'alternanza che tuttavia non ha mutato di una virgola il rendimento di chi è stato via via chiamato a difendere la porta rossonera, affidata inizialmente a Victor De Lucia, giunto in estate dall'entella con i galloni del titolare, perduti cammin facendo e dopo pesanti svarioni a vantaggio di Pietro Perina, che dopo qualche salvataggio è inciampato anche lui in qualche erroraccio clamoroso, quello di domenica sera ad Avellino, che è costato il 2-0 degli Irpini e ha vanificato ogni speranza di rimonta. Un problema tra i problemi di un Foggia che Eziolino Capuano è chiamato a rialzare e a risollevare nella mente prima di tutto. Tecnico e squadra sono al lavoro perché alle porte c'è il derby col Taranto, anticipo dell'ottavo turno, venerdì sera lo Zaccheria, allenamenti blindati, porte rigorosamente chiuse e qualche spiffero che parla di possibili cambi e varianti nell'undici iniziale dove, a differenza di Avellino, dopo domani sera potrebbero trovare spazio dal primo minuto Zunno e Orlando, tra i pochi, se non gli unici, a salvarsi nel disastro del Partenio Lombardi.